La parzelletta di Geppo Due amici stanno a chiacchierare del più e del meno A un certo punto c'è sta uno che è veramente molto preoccupato E mi dice, ma che hai fatto? Guarda, lasciami sta Mia moglie ha avuto un incidente con la mia nuova BMW Me l'ha distrutta E lui fa, orca miseria, è orribile Ma è ferita? Ancora no, si è chiusa a chiamar bagno La sveglia dei gladiatori Dimensione Suona Roma Il ritmo della capitale